Un vero sportello telematico su smartphone, per fare ogni tipo di pratica. È la nuova app di Estra per Android e iPhone, semplice e gratuita, con tante novità e un nuovo intuitivo design per una più facile lettura. Estra arriva a Grosseto, aperto in via Ximenez il primo punto clienti della multiutility energetica, che, in linea con nuovi store e con la loro cromatica immagine, offre tutti i servizi del mondo Estra. Estra in camper tra Castel del Piano, Abbadia San Salvatore e Follonica. È l'ufficio mobile inaugurato da Estra con tutti i servizi che si trovano negli store di nuova concezione della multiutility. Giulia Capocci, ancora tricolore nel singolo. La tennista retina, sostenuta da Estra anche in funzione di Tokyo 2020, per il secondo anno consecutivo si è laureata campionessa italiana.